Salviamo queste banche. Popolari Venete, via libera al decreto sul salvataggio, il Ministro Pato Andice mobilitate risorse fino a 17 migliori, Paolo Gettiloni, Presidente del Consiglio, ringrazia, intesa San Paolo, mi dovrebbe da chiedere di cosa, comunque andiamo avanti, e chiede il sostegno più ampio possibile del Parlamento. Vediamo se questo sostegno ampio arriva anche dal Movimento 5 Stelle, perché è con noi l'On. Alessio Villarosa, Movimento 5 Stelle, Commissione Finanze. Ben trovato, On. Alessio Villarosa. Ben trovato. Allora, che sta accadendo nell'ottica del Movimento 5 Stelle? Perché Gettiloni è convincente, come lo sarebbe chiunque, bisogna salvarle queste banche, posti di lavoro, tutto quello che ne deriva per quanto riguarda l'impatto economico su quel territorio, ma insomma se falliscono le banche di quel tipo, su quel pezzo di territorio, insomma va al collasso una fetta consistente dell'economia italiana. Quindi siamo tutti d'accordo, le salviamo, però qual è il vostro punto di vista Villarosa? Guardi, convincente mi piace dirlo, ma per chi non ha potuto seguire in questi tre anni le vicende delle due venete... Quindi sono giustificato io Villarosa? No, perché guardi, in questi tre anni che noi chiediamo da tre anni, chiediamo un intervento sulle due venete, probabilmente lei ha avuto un lapsus prima, ha parlato di 17 milioni, forse perché è veramente difficile... 17 miliardi, hai ragione, 17 miliardi. 17 miliardi perché è una cifra così enorme con la quale potremmo farci peggio di cittadinanza che non si riesce neanche a dire. Questi 17 miliardi probabilmente tre anni fa potevano essere dieci, quindi diciamo che questi tre anni di perdita, questi tre anni di tempo perso hanno fatto aumentare il costo per i cittadini di 7 miliardi. Non c'è dubbio che un intervento sulle venete andava sicuramente fatto, ma quello che vorrei comunicare ai cittadini è che quella che chiamano una liquidazione coatta amministrativa di queste venete, in realtà non lo è, perché lei sa bene che quando una banca, un'impresa viene liquidata in maniera coatta amministrativa, non viene aiutata dallo Stato quando dice 17 miliardi di euro. Allora aspetti, no, aspetti, 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 perché queste sono vicende da un punto di vista giornalistico anche semplici da comunicare, però complesse. Lei mi sta dicendo, come la stampa oggi scrive, tutta la stampa, il decreto legge con le disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza. Lei sostiene però che in realtà questo decreto non contiene questa liquidazione coatta amministrativa. E' una liquidazione coatta con i soldi dello Stato. Di solito la liquidazione coatta si fa con i soldi dell'azienda che viene liquidata, invece in questo caso si fa con l'aiuto dello Stato che ripulisce una banca da tutte le porcherie che ha fatto in questi anni, perché ricordiamo che diverse procure stanno indagando sulle due venete e stanno indagando perché a quanto pare erogavano quei famosi mutui baciati, indiettati dal Codice Civile Art. 957, ovvero ti do un mutuo solo se compri le azioni. E queste imprese venete oggi, quelle azioni con questo decreto, le perderanno tutte perché comunque perderanno tutto il valore gli azionisti. Quindi questo decreto in realtà, camuffato con una liquidazione coatta amministrativa, serve per non far fallire la banca, dichiarare la banca rotta frontolenta e arrestare i colpevoli di questo sfacero. Questo è quello che noi abbiamo capito. Potevamo nazionalizzare e mettere un euro noi, e non intesa, farlo tre anni fa e portare, come hanno fatto per esempio in Inghilterra e in tanti altri paesi, in dieci anni con un giusto piano industriale, senza perdere soldi, visto che soldi li stiamo mettendo noi in quest'operazione, di nuovo queste banche… Cioè le risorse potevano essere usate per nazionalizzare, questo lei dice? Tre anni fa tra l'altro, quando l'abbiamo detto noi, come con MTS due anni fa, però purtroppo… Perché si sceglie secondo lei questa strada? Perché qui non è soltanto una diversità tecnica di vedute, è una scelta politica, no? Lei, Villarosa, è un tecnico, nel senso che in Parlamento… Ma è anche un politico, ma è anche un politico, quindi la sua scelta tecnica, esatto, la sua scelta tecnica deriva anche da un ragionamento politico. Però il governo ne fa un'altra, fa un'altra scelta tecnica, che è quella del decreto che lei contesta nella dicitura della liquidazione coatta, che deriva però da una scelta politica, che è la sua. Secondo lei questa scelta da che cosa deriva, da quale visione? Guardi, una sicuramente quella che ho detto prima, condivisa anche dal giudice, perché è Camillo Davigo, che dice anche lui che queste banche non le fanno fallire, perché probabilmente poi bisognerà chiarare la banca lotta a fratolente, quindi mandare in galera gli amministratori. Un altro motivo è perché c'è un accentramento bancario, una voglia di prendersi il mercato, di dare il mercato in mano a pochi attori, questo è già avvenuto in America, basta vedere l'andamento del mercato bancario negli ultimi 30 anni, ora in mano a 5-6 banche, ed è una politica che in vari stati, spinti dal capitalismo, sta prendendo piede. Tra l'altro in questo decreto c'è un comma, mi sembra dell'articolo 3 o 4, nel quale viene proprio derogata la normativa sulla concentrazione, appunto sul monopolio nel settore bancario. Proprio perché questa acquisizione delle due vene decine esagererebbe un mostro enorme, ricordiamo che in sé se la seconda banca propone i crediti in Italia e con Ubi fanno più del 60% del mercato, quindi è un decreto che secondo me aiuta solo alcuni e mette in ginocchio molti. Gli obbligazionisti prenderanno l'80% come al solito, non prenderanno tutto, anche se sono stati truffati, gli azionisti, quelle imprese di cui parlavo prima perderanno i loro soldi, le filiali verranno chiuse, i migliaia di questi permettoni verranno comunque messi in mezzo alla strada, quindi se voi mi dite che questo è un decreto valido e utile per il Paese, io cambio mestiere. Però siamo d'accordo, Onorevole Villarosa, sul fatto che i risparmiatori comunque vadano salvati, cioè perlomeno loro... I risparmiatori vanno salvati, l'unica cosa positiva è che almeno per l'80% sono le retail, ricordiamolo, quindi non le imprese, perché le imprese non sono retail, le imprese con un certo fatturato, sono clienti professionali, operatori qualificati, una delle due denominazioni, e quindi vengono escluse da determinate tutele e loro perderanno tutto, perché le azioni non valgono più nulla. Quindi solo i privati in qualche modo potranno recuperare? Sono i retelli, i piccolini dico io, le famiglie e quelli che sono stati, si chiama mist-selling questa operazione, ovvero truffati, nel senso non potevano acquistare quelle azioni, quelle obbligazioni, gliele hanno fatti acquistare, si chiama mist-selling. Senta, scusi, però il passaggio è importante, perché noi parliamo di, anche per il linguaggio che arriva ai cittadini, noi parliamo di salvataggio, quindi al cittadino viene chiesto salviamo queste banche, il cittadino sa che dovrà esborsare attraverso le imposte, i tali, insomma, dovrà metterci dei soldi pubblici, però lei dice, adesso ha detto una cosa importante, ha detto guardate, qui sì, sarà pure un salvataggio, ma in realtà ci sarà una ricaduta comunque occupazionale e tutto. Già l'è stato dichiarato, ma poi anche la vecchia Etruri a Banca Marche, cari chiedi, quando il Premier parlava e diceva ho salvato i risparmiatori, i correntisti, i correntisti erano già esclusi dal burden sharing, quell'operazione che hanno messo in piedi quella volta sulle quattro banche, e migliaia di dipendenti sono finiti in mezzo a una strada e centinaia di filiali sono state chiuse, perché è ovvio, se acquisisci un'altra banca, in quel caso UB, ha un euro, poi farà un piano industriale che prevederà sicuramente una risulta, non potrà prendersi tutto l'organico, e tutto questo d'accordo col governo che va in giro a giro a salvare i posti di lavoro. Cioè tutto sommato per intesa, senta per intesa è un buon affare quindi tutto sommato. È un affarone per intesa, lo farei io con i soldi dello Stato, anche perché gli diamo pure i soldi per evitare che quando comprino questa azienda, questa banca, il loro, il famoso CET1, quel parametro che Banca Centrale Europea usa per dire questa banca è buona, questa banca è cattiva, non subirà contraccolpi, a questo servono, quindi lo Stato non è intesa che acquista, è lo Stato che dà i soldi a intesa per poter acquistare i crediti, le garanzie le mette sui crediti deteriorati che chissà cosa c'è là dentro, le mette lo Stato, quindi è un'operazione tutta a vincere per intesa, che prenderà filiali, territorio, clienti. Perché non vengono considerati a tutti gli effetti aiuti di Stato? Anche l'Europa ha dato l'ok a questo tipo di... L'ok ancora deve arrivare, perché nel decreto si prevede, il decreto che è uscito ieri, prevede il comma 2 proprio un ok della comunità europea, quindi ancora c'è da discuterne in comunità, in Dicicomp, la commissione sulla competizione che si occupa di questi decreti. Ma tra l'altro ancora dobbiamo affrontarlo in Parlamento, ci sarà una pregiudizia di costituzionalità, hanno la forza, lo sappiamo, però ancora gli scadini sono tanti. Senta, e tutte quelle aziende invece che ha citato il primo ministro Gentiloni, rispetto al tessuto aziendale che è la forza del nord-est, lei dice che le aziende non potranno avere una tutela? Il tessuto, avevano il tessuto imprenditoriale, le grandi aziende, gli facevano comprare le azioni, le azioni, hanno perso tutto. Questo lo dobbiamo capire. Poi parliamo di aver salvato gli obbligazionisti subordinati. Bene, Villarosa, io la ringrazio per il contributo perché è stato molto molto interessante, ovviamente poi ognuno si farà un'idea per conto suo, però a volte c'è una gran cassa mediatica che ci dice salvataggio, eccetera, eccetera. Io ho cercato questa prospettiva con lei anche per capire cosa sta realmente accadendo. Io sono preoccupato in generale, questo è l'ultimo proprio, perché al di là della vicenda popolare venete, qui secondo me c'è una criticità economica generale del paese che affiora di volta in volta, ma che affiora inesorabilmente Villarosa, adesso senza creare allarmismi. Sono preoccupato anche io, non creiamo allarmismi ma bisogna lavorare tanto. Queste sono delle febbri alte che affiorano. È fondamentale il tessuto bancario, molti cittadini purtroppo non lo capiscono, ma è tutto, perché lì ci sono i soldi di tutti e servono per sfuggire l'economia e se salta quello rischia risaltare ogni settore. Quindi bisogna far passare questo messaggio e bisogna metterci più attenzione quando si fa un investimento, quando si controlla una banca, quando si fanno le leggi, bisogna mettere più deterrenza perché determinati reati devono pagarli e chi li commette lì deve pagare perché c'è stato un suicidio, si ricorda Civitavecchia, ma c'è tanta gente che non arriva al suicidio perché è un gesto estremo, ma è disperata, distrutta, non è vero, è vero e gli è rovinato gli ultimi vent'anni, trent'anni di vita. Credo che questa gente debba pagare seriamente. Onorevole, l'atteggiamento parlamentare che prima invocava Gentiloni il più ampio possibile da parte vostra, quale sarà? L'unica nota positiva, glielo dico, è la questione dell'SGA. Finalmente i crediti deteriorati, queste sofferenze, era una proposta che abbiamo anche noi nel programma, verranno gestite internamente, quindi non si vendono al 17%, cioè a niente come fatto con le quattro banche, ma si cerca di recuperare il più possibile. Noi cercheremo, ripeto, di far arrivare il rimborso a chi è stato truffato al 100%, far capire che si può arrivare in maniera differente anche nella nazionalizzazione senza questo partner, perché come hanno ribaltato le regole iniziali che lo Stato non poteva intervenire, oggi sta intervenendo, quindi saranno due mesi di grande battaglia, ma ricordiamo i cittadini che questo decreto scadrà il 24 agosto, quindi noi dal 10 al 24 agosto per 15 giorni non ci potremo lavorare, quindi anche questo devono sapere, lavoreremo 45 giorni due camere su questo decreto. Grazie, grazie Villarosa, grazie Alessio Villarosa, Movimento 5 Stelle, Commissione Finanze.